eccoci eccoci prima leggiamo il cartello per capire meglio il personaggio e poi andiamo a conoscerlo ok benvenuto benvenuto come ti chiami matteo matteo dove vieni verona molto bene dice un festeggi stasera mi devo sposare quindi si può aprire il celibato bene bene quello poi vediamo 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 ragazzoni dai vediamo vediamo poi ne approfitteremo assolutamente io ho visto il tuo cartello quindi immagino cosa fai nella vita faccio nella vita non lo so dici tu io sono un cantiniere o cantini contadino cantiniere contadino cosa cosa produce 10 vino riso aveva puliziella classico bravo molto bene e chi è la fortunata che ti ha conosciuto immagini in una degustazione a nanna schiamando e come vi l'hai conosciuta durante una degustazione hai fatto assaggiare amici di 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 amici sempre così sempre così molto bene allora allora e leggiamo leggiamo dietro che prima riempivi di vino i tini e adesso sembrerà che riempirai anna di bambini vedremo qual è il tuo obiettivo tanti tanti bevi tanti bevi più o meno dacci un numero dacci un numero quattro cinque quanti voli insomma non è che decidiamo noi decidi tu quattro cinque quattro cinque vedremo tra qualche anno allora che punto sei allora un saluto ad anna e un saluto al nostro cantiniere buona serata e buon divertimento ciao